i set makeup sono sempre quell'occasione giusta per i nostri acquisti ho deciso di registrare una serie di video incentrati sui set makeup multi brand low cost e luxury li metteremo alla prova se saranno performanti convenienti se è giusto l'acquisto questa full face l'ho realizzata con dei prodotti di una grande artista ti lascio subito al video ciao sono nives ben ritrovati sul mio canale oggi iniziamo una serie di video incentrati sui set makeup multi brand io subito con un brand molto chiacchierato sto parlando di house labs il brand di lady gaga questo è il set di tre prodotti in una splendida truce molto glam andiamoli a vedere ombretto liquido mi soffermo sul pack decisamente fashion logo in oro con una forma direi di alto designer è curato nei minimi dettagli questo è lo scovolino afrodite un fascio di luce che va a illuminare una palpebra matura andiamo a provarlo subito e vediamo se l'effetto sarà effettivamente così decisamente luminoso ti apre lo sguardo è un colore passepartout che puoi utilizzarlo di giorno di sera sottile non evidenzia le pieghette quando si applica senti questa freschezza molto piacevole per me è un grande sì il secondo prodotto è la lip liner tonalità mit finish semi opaco waterproof è un bel nude vediamo se possiamo utilizzarla anche sugli occhi ho applicato la matita nell'angolo esterno sulla rima inferiore questa lip liner è ottima anche come ombretto e l'effetto è molto bello ho rifinito il makeup con del mascara un bronzer e un po di blush e adesso concentriamoci sulle labbra riprendiamo la nostra matita mit è morbidissima è bella anche così con un gloss trasparente devo dire questo gloss la tonalità è da paura venus pazzesco vedo l'ora di indossarlo lo scovolino è molto pratico perché riesce a distribuire bene il prodotto il colore si commenta da solo è favoloso se ti piacciono i toni nude questo lo devi provare è luminoso non appiccica è confortevole sulle labbra quindi non sento spessore nell'insieme questo makeup è molto elegante luminoso un aspetto decisamente fresco conclusioni un set davvero pazzesco ombretto liquido shimmer performante sottile non va insinuarsi nelle pieghette illumina una palpebra matura la matita mit versatilissima la puoi utilizzare anche come ombretto come ho fatto io si sfuma in un nanosecondo come contorno labbra precisa non si muove e waterproof e per finire il gloss venus colore nude da urlo il giudizio finale performance un grande sì convenienza un grande sì un prodotto stravenduto recensioni più che ottime assolutamente da provare siamo giunti al termine se ti è piaciuto questo contenuto pollicione in su e iscriviti al canale per non perderti altri contenuti un ciao da nimes e alla prossima